Ancora un sequestro di un opificio clandestino nel Casertano. Stavolta i carabinieri sono intervenuti a Villa Literno. I militari hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per la produzione di scarpe gestito da due cittadini cinesi di 37 e 36 anni, nel quale erano impiegate altre quattro persone, tutte di nazionalità cinese, sprovviste di regolare contratto di lavoro. I carabinieri hanno inoltre rilevato uno stato dei luoghi di lavoro carente delle più elementari condizioni di igiene e sicurezza. Il locale semi-interrato adibito a topificio è risultato sprovvisto delle necessarie autorizzazioni e pertanto sottoposto a sequestro penale, così come tutte le attrezzature installate pronte ad accogliere sei postazioni lavorative. I due cinesi sono stati deferiti in stato di libertà per violazioni della normativa in materia di lavoro, nonché dell'igiene e sicurezza sui posti di lavoro. Negli ultimi due anni sono addirittura sei capannoni individuati e sequestrati dai carabinieri nel Casertano. Lo scorso 25 marzo e il 2 aprile i militari avevano provveduto a sequestrare, sempre a Villa Literno, altri due opifici irregolari.